Com'è andata? È andata benissimo, sono proprio contenta di aver portato tantissimi studenti della mia scuola a questo spettacolo perché è stato molto coinvolgente e molto emozionante, anche per noi che pensiamo di aver superato questo problema ormai. Viviamo una battaglia che ogni giorno ci trova impotenti, perché i ragazzi sono convinti che questo sia un problema che loro possono superare quando vogliono, giustamente come viene detto, e che la canna non faccia male. E' quello che sentono in giro, e sicuramente loro ne sanno sempre di più, ne sanno più di noi, ma sì, tanto voi parlate, e credo sia uno strumento importante. Tornate ancora, tornate ancora.